Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari www.alcat.it Buonasera e benvenuti nel nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva. Oggi è la serata della verità per il calcio italiano, infatti scopriremo se dopo 5 anni l'Italia tornerà ad avere una sua rappresentante in una finale di Champions League. Una finalista intanto l'abbiamo già, è il Barcellona che ieri è stato sconfitto 3-2 a Monaco di Baviera contro il Bayern ma grazie al 3-0 dell'andata si è qualificata. Il 6 maggio sarà a Berlino a giocarsi appunto questa finale, aspetterà la seconda finalista che uscirà dalla sfida di stasera del Sant'Ago Bernabeu alle 20.45 tra Real Madrid e Juventus. Una Juventus che avrà a disposizione Pogba, lo conferma proprio Allegri in conferenza stampa, ascoltiamolo. Buonasera a tutti, non è stata una mossa vincente. Credevo che in quella partita lì all'inizio servisse più un giocatore con quelle caratteristiche. Con quanto riguarda Pogba, Pogba sta bene, credo che ci siano molte possibilità che scendano all'inizio in campo. Carlo si rappresenta per la Juventus, insomma credo che tutto il calcio mondiale, è un giocatore straordinario che quando gioca è sempre un piacere vederlo giocare. Credo che stia facendo un'annata importante e credo che quest'anno abbia fatto fino a questo momento anche un gol importante in Champions che era un po' di anni che non faceva. Siamo qui, siamo a 95 minuti a Berlino, non vedo perché non dobbiamo avere nella testa e soprattutto credere di arrivarci. È un'occasione importante che all'inizio nessuno si aspettava e quindi siamo qui e a Berlino bisogna andare. E sicuramente importante per difendere il 2-1 ottenuto a Torino sarà la prestazione di Gianluigi Buffon. Ascoltiamo il capitano Bianconero che ha già tenuto a difendere il suo collega Iker Casiglia troppo spesso criticato da tifosi e stampa spagnola. È inevitabile che soprattutto al di là dello stadio e della componente climatica che possiamo trovare domani io credo che abbiano un valore offensivo talmente importante che se noi dovessimo ridurci solo a cercare di difendere il risultato secondo me usciremo dal campo con qualche rimpianto. Perché è inevitabile che i numeri dicano sempre qualcosa di corretto e Real Madrid sicuramente è una squadra che segna in casa penso da 80-90 partite, ora non so quante siano e magari può concedere qualcosa. Per cui io credo che non ci snatureremo più di tanto. Chiaramente bisogna giocare con una certa intelligenza perché hai un minimo ed esiguo vantaggio. Non consiglio nulla a Iker perché alla fine sono situazioni personali e lui vive la sua qua. Per quel che riguarda la contestazione e i suoi confronti la trovo sicuramente un gesto ingrato un gesto inaudito per un ragazzo, per un professionista che si è speso professionalmente per una ventina d'anni per la causa e per la maglia del Real sicuramente ha avuto tantissimo ma sicuramente ha dato anche tantissimo. Per cui al di là dei momenti che possono essere buoni o meno buoni certe icone, certe persone, certi calciatori non meritano sicuramente questo tipo di trattamento. Andiamo in casa Real Madrid perché il Santiago Bernabéu vuole la sua seconda finale consecutiva vuole l'undicesima Coppa dei Campioni e soprattutto vuole affrontare il Barcellona in questa grandissima sfida che sarebbe quella di Berlino se appunto il Real Madrid passasse il turno. Vediamo le parole di Ancelotti, un Ancelotti che diciamo all'ultima spiaggia perché avendo già ormai rinunciato alla Liga e sendo stato eliminato dalla Coppa del Re ha come ultima possibilità per chiudere la stagione alla grande e poi è stato appunto di vincere la Champions League che potrebbe anche essere l'ultima speranza per salvarsi dalla panchina e salvare il posto di lavoro a Madrid. Vediamo le parole del tecnico appunto del Real Madrid. L'equipo lo vedo concentrato, lo vedo con gana, con l'illusione di essere una grande... La squadra è concentrata, ha voglia, ha la speranza e l'entusiasmo per fare una grande semifinale e per giocare un'altra finale. Dire che è una situazione limite non saprei, è un momento importante per la nostra stagione. Nessuna squadra ha mai giocato due finali di fila. Sappiamo che la statistica non è dalla nostra parte ma vogliamo fare il possibile per vincere. Tambien perché la statistica non sta con nosotros però con mucha gana per asser tutto quello che è possibile e per ganare. Sta bene, è disponibile 100% abbiamo dato un po' più di tempo per recuperare però per la partita è pronto può giocare dall'inizio come può entrare a partita iniziata Cicciarito dà molta più profondità un giocatore che attacca molto bene la linea difensiva ma credo che fa giocare meglio la squadra. Finiamo la rassegna dedicata ai protagonisti di questa importante partita con James Rodriguez il colombiano che dopo la sconfitta di Torino ha invitato il Santiago Bernabeu ad essere un inferno e ha dichiarato che loro sono pronti ad uccidere la Juventus non sapremo se è così ma intanto ascoltiamo le parole del colombiano che è in cerca di una serata di gloria anche per conquistare la piazza che ancora non lo ama del tutto. Dobbiamo giocare con intensità e stare molto attenti a tutto loro giocheranno con almeno 5 uomini dietro e per questo dovremmo essere pazienti a cercare spazi creare opzioni per avere superiorità numerica e cercare di fare gol il prima possibile e ci lasceranno così spazi. Dobbiamo rimanere concentrati e penso che domani sarà una partita epica una gara unica e per questo, ripeto dovremmo stare attenti e tutto andrà bene. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata a Real Madrid Juventus andando a vedere come i tifosi bianconeri hanno passato la nottata nella capitale spagnola una nottata sicuramente allegra e carica di euforia in vista della grande partita. Vediamo il contributo realizzato dal nostro inviato a Madrid. E vedremo se questi tifosi riusciranno a dare la carica anche alla squadra di Massimiliano Allegri. Noi spostiamoci in Italia torniamo in Italia perché ieri il giudice sportivo Tosel ha squalificato Benitez per un turno infatti l'allenatore del Napoli si è lasciato scappare una frase non certo onorevole nei confronti del calcio italiano definito con parole che non si possono ripetere. multa anche per Higuaín a causa del litigio avvenuto a fine partita col portiere del Parma Mirante che però ha dichiarato di avere già fatto pace con l'attaccante del Napoli e essere addirittura disposto a dividersi la multa. Vediamo il servizio. Costa cara la frase pronunciata da Rafa Benitez al termine della sfida contro il Parma. Le parole del tecnico spagnolo rilevate dagli ispettori della procura FIGICI hanno portato il giudice sportivo alla decisione di squalificare l'allenatore del Napoli per un turno. Per i fatti del Tardini Tosella ha anche combinato una multa di 10.000 euro a Gonzalo Higuain per aver, così si legge nel comunicato del giudice al termine della partita sul terreno di gioco rivolto un pesante insulto al portiere della squadra avversaria in frazione rilevata dai collaboratori della procura federale. Inibizione fino al 25 maggio e multa di 5.000 euro per i glittare. Il dirigente della Lazio è stato accusato di aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro al termine della sfida tra i bianco celesti e l'Inter di domenica scorsa. Intanto il Napoli ha annunciato di presentare ricorso contro la multa data di Higuain e la squalifica di Rafa Benitez. Bene, ora apriamo la nostra pagina dedicata al calcio mercato andando sul web e vediamo la notizia che è apparsa su calciomercato.com una notizia di lazialità che appunto calciomercato riporta Lazio offerta per Boateng il destino di Kevin Prince Boateng della Lazio potrebbe tornare a incrociarsi qualche anno fa era in procinto di essere la società di Rotito salvo poi andare al Milan ed ora sembra che a distanza di 5 anni il ganese stia tornando nella lista dei desideri bianco celesti secondo lazialità infatti Tare il glittare avrebbe offerto al Boa un quadrinale da 2,2 milioni di euro a stagione al giocatore dello Schalke che andrà in scadenza nel 2016 giocatore dello Schalke che sappiamo è stato recentemente licenziato in tronco insieme a un suo compagno di squadra siamo nel mercato perché passiamo alla Juventus mercato juventino mercato che si basa soprattutto sull'attaccante l'attaccante ed è Dibala il nome che da giorni ricorre e che quanto pare l'accordo è stato finalmente trovato vediamo i dettagli il futuro di Paolo Dibala sembra ormai scritto l'attaccante argentino l'anno prossimo vestirà la maglia della Juventus a confermarlo è il corriere dello sport che da ormai per chiuso l'accordo Dibala da tempo aveva espresso il desiderio di lasciare Palermo e Marotta ha subito bussato alla porta di Zamparini alla richiesta di 40 milioni la Juventus ha risposto frenone 28 ma ora sembra che le parti siano pronte all'accordo per una cifra che si aggira attorno ai 32 milioni che potrebbero diventare 40 con gli 8 previsti dai bonus un acquisto decisamente dispendioso per la società bianconera che potrà però attingere dal tesoretto conquistato grazie all'ottima stagione in Champions League sconfitta dunque la concorrenza dell'Inter che fino all'ultimo ha provato a ribaltare una scelta che Dibala aveva già chiara in testa la campagna acquisti bianconera però non si ferma l'argentino Allegri vuole un altro attaccante di alto livello e Marotta è pronto ad accontentarlo passiamo alla Formula 1 perché arrivano ancora frecciate e provocazioni da parte di Fernando Aronso nei confronti della Ferrari i 132 punti raccolti nei primi 5 Gran Premi da Vettel e Recon non fanno testo secondo il pilota spagnolo passato alla McLaren secondo lui infatti la musica a Maranello è sempre la stessa vediamo il servizio ha lasciato Maranello ormai da mesi ma la Ferrari continua ad essere nei pensieri di Fernando Aronso e non stiamo assolutamente parlando di pensieri positivi da quando è passato alla McLaren il pilota spagnolo non ha mai perso occasione per lanciare frecciate e provocazioni alla sua ex scuderia l'ultima uscita di Alonso punta a sminuire il lavoro fatto dal cavallino in questi primi Gran Premi caratterizzati da una vittoria e tre terzi posti per Sebastian Vettel sostituto proprio dello spagnolo resto contento della mia scelta di passare in McLaren l'anno scorso ero a mezzo minuto un minuto dalla Mercedes quest'anno la Ferrari Spagna ha preso 43 secondi non è cambiato niente non è cambiato niente per cinque anni e non volevo che la cosa si ripetesse per il sesto o per il settimo anno sono le parole del pilota di Oviedo a Sky Sport News Alonso sembra dunque più preoccupato a guardare in casa Ferrari che ad analizzare il suo pessimo avvio di stagione zero punti due ritiri un undicesimo e un dodicesimo posto il due volte campione del mondo non è però l'unico a stuzzicare la scuderia di Maranello anche l'ex presidente Luca Montezemolo non ha parole dolci onestamente credo che la Ferrari abbia avuto un po' di fortuna quest'anno la Mercedes non ha rivali giornata della verità anche nella pallavolo maschile perché è in programma la gara 4 della finale scudetto tra Modena che ospita Trento i trentini sono però avanti 2 a 1 in caso di vittoria diventerebbero già campioni d'Italia Modena però vuole allungare la sfida e andare a giocarsi la bella eventuale bella in trasferta a Trento ascoltiamo quindi le parole del palleggiatore di Modena il brasiliano Bruno io penso che è un'altra partita importante come le abbiamo fatte tante penso che non dobbiamo pensarci troppo alla pressione Angelo ci ha detto una cosa che noi proveremo arrivare in campo pensando come una coppa la prima partita questa è la semifinale abbiamo andato a Bologna e dopo magari abbiamo l'opportunità di giocare la finale a Trento sicuramente sarà una partita difficile però non possiamo cambiare nulla di quello che abbiamo fatto tutta la stagione della nostra aggressività della nostra forma di giocare scendere in campo con con allegria con sai provando a divertirsi sempre non pensare troppo che può essere l'ultimo no questo noi dobbiamo fare quello che che dobbiamo come giocatori giocare palla a volo fare il nostro cambio palla battere bene e alla fine vediamo cosa succede oggi in questa ultima partita abbiamo parlato ieri ci è mancato un po' più di fluidità il nostro cambio palla abbiamo faticato più delle altre volte e abbiamo subito un po' più di ace loro hanno fatto un po' più merito loro perché hanno grandissimi battitori e le finali sono così sono sempre vicine qua a Modena eramo dietro tanti set abbiamo vinto anche lì allo spareggio e succede così noi dobbiamo stare attaccati perché sicuramente i set saranno sempre così sarà molto difficile di avere un set con una differenza grande di punti dobbiamo stare attaccati a ogni palla a ogni punto per per arrivare a questo fine set è lì fare magari cambiare un po' battere un po' più aggressivo non subire questi punti nell'arrivo a tutte loro così cambiare un po' il discorso della ultima partita e questa era la nostra ultima notizia io quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione con tutto il post Real Madrid Juventus arrivederci il programma è presentato da Alcat Test Italia il test sulle intolleranze alimentari www.alcat.it per la altra per la altra per la altra Grazie a tutti.